Per la serie 3 Smils al congresso, decimo congresso di Radicali Italiani, undicesimo, è vero, undicesimo. Andrea, Nicolás, un saluto a LibriTV. Ciao LibriTV. Ciao LibriTV. Allora, due di questi Smils hanno una splendida maglietta con un hashtag Trannemi Tulli. Spieghiamo questa iniziativa. È una nuova associazione, anzi un nuovo componente del PRT. Questa è un'ottima idea. Noi potremmo fare subito l'associazione Trannemi Tulli, perché vogliamo dire con forza e con chiarezza che noi vogliamo Vincenzo Vitulli fuori dal movimento. La prima espulsione politica della storia dei Radicali Italiani. Ma il logo? Il logo è semplicissimo. Hashtag Trannemi Tulli, proprio per andare incontro alle tendenze di internet. Contro le tendenze e contro Vitulli. Contro Vitulli, ovviamente. Quindi la prima associazione potrebbe essere la prima associazione con i propri viri che cacciano, che impediscono. I propri viri siamo noi. E ovviamente sarà un'associazione strutturale. Strutturata, più che strutturale. Sì, e avrà lo stesso regolamento della lista pannella. Ah, ho capito. E magari anche della mailing in sombra, se di agra che non si sa come si entra. No, la mail del sedi agra bisogna abolirla. Basta, abbiamo deciso che noi avremo una mail. Avremo una mail a cui potranno accedere tutti, tranne Vitulli. Tranne Vitulli, giustamente. Ok, allora vi do la chicca, l'anteprima, tranne non molto, anche Vitulli sposerà il progetto, tranne Vitulli. Ragazzi, qua è importante, ma questo Vitulli lo vedremo qui. Ma è appena scende. È cosciente, è cosciente. Tutto in conti. Va bene, allora attendiamo. Grazie Andrea, grazie Nicolai. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Buon lavoro.